Sono particolarmente felice di parlare con Marc Lanteri, titolare dell'omonimo ristorante al castello qui di Grinzane Cavour, che ci ha onorato di preparare un aperitivo riservato ai pochi invitati di questo evento. Insomma, non abbiamo ancora assaggiato, che cosa ci ha preparato? Stasera abbiamo fatto un piccolo assortimento di piccole buffet, abbiamo fatto dei beignet con una mousse di alocaverano, abbiamo fatto tutti i prodotti del territorio, un toast con un trotto affumicato del territorio anche, abbiamo fatto un gazpacho, visto che ci sono i pomodori adesso, abbiamo fatto un patè di piegatino, poi dei ciali di riso, che la fa la nostra coreana in cucina, e tutto. Abbiamo già la collina in bocca, devo ammetterlo. Chef, la vostra è una cucina particolarmente curata, particolarmente ricercata, che in qualche modo subisce influenze territoriali anche abbastanza ampia, no? Sì, diciamo che è una cucina di confine, perché io sono da parte francese, parte delle Alpi Maritimi, però facciamo cucina di confine, usando sempre comunque dei prodotti del territorio, una cucina che si basa su dei prodotti a chilometro zero e di stagione, una cucina, come dire, una cucina fresca, semplice e elaborata nello stesso momento. Certo, e allora noi la ringraziamo per la realizzazione di questo bellissimo buffet. Vi ringrazio molte e buona continuazione.